ultima puntata del quasi gaming non vi nascondo che c'è un bel po d'emozione anche da parte mia normalmente non lo dico mai però se siete appassionati di quasi gaming restate sul video guardatelo fino alla fine perché c'è un sacco di sorprese che ci aspettano nel finale detto questo prima di cominciare l'altra volta si è sofferto tantissimo col secondo quintetto quindi stavolta ho deciso di asciugare il più possibile la rotazione dando minuti soltanto a chi veramente se l'è meritato sul campo il bicchierone meffion du melo victor oladipo e willy il principe di bel air in quintetto dalla panchina una caterva di minuti a giavalone perché io ci credo tanto my boy my man giavalone menghi quotazioni in ribassissimo per zion e devin buker che però ormai vanno fatti giocare e poi ighi ma non sono gli unici cambiamenti rispetto all'ultima puntata perché sul vostro suggerimento su vostra richiesta me l'avete scritto in tantissimi eliminiamo per l'ultima partita dell'anno anche da parte loro il quintetto titolare anthony towns griffin durant mitchell e westbrook fuori così come noi abbiamo i nostri migliori fuori in modo tale che si spera si dovrebbe avere una partita un po più equilibrata un po più punto a punto fino alla fine loro hanno tre silver montresla draymond green e giro holiday come noi tutti gli altri sono bronze e quindi diventa una partita come quelle di inizio anno no quelle genuine rustiche con tanti bronzi in campo mi sembra il modo migliore per onorare la fine della stagione è l'ultima partita dell'anno l'ultima partita della stagione una stagione incredibile lunghissima 40 gare giocate poi c'è entrato di mezzo la quarantena è successo di tutto è stata una cavalcata grandiosa verso la vittoria dell'anello che abbiamo centrato ormai un paio di partite fa questa è la gara dei saluti la gara d'addio dopo oggi tutti questi grandi protagonisti di quest'annata straordinaria non li rivedremo più e allora ce li dobbiamo godere ci dobbiamo divertire e siamo pronti a partire guarda subito mefiondu sdraiato dalla difesa è partito bello carico e aggressivo forza ragazzi dai victor che ora sei il nostro leader e c'hai la licenza di uccidere in attacco fin da subito ad attaccare ferro subisce il fallo victor ora tipo la pantera nera andiamo in lunetta abbiamo cominciato forte belli concentrati belli aggressivi come garba a noi forza tra sei più alto sei più alto non finisci mai non finisci mai di da noia lo fa sbagliare il rimbalzo del bicchierone oh no ragazzi ma a parte che quello era in frazione prima proprio di cominciare a ragionare gliela tocca a willy e si recupera il possesso dai victor che c'hai la strada spianata verso il ferro victor o la divo la pantera nera 4 a 0 porta verso l'aiuto del bicchierone però è bravo stavolta harrison bars vai così vai così dritto per dritto sbaglia il bicchierone ma trova il rimbalzo subisce il fallo e per niente e ancora deve entrare by man my boy giavalone mcgee io ho tanta fiducia e tante aspettative è finito me fiondu c'è finito me fiondu che gliela tocca pulisce tutto il bicchierone allora si può andare ancora in mezza transizione c'è carmelo contro moran lo punta di fisico spalla contro petto willy principe di bel air mancato da harrison bars a questo punto tutte le difese sono saltate c'è ancora carmelo contro moran lo spinge lo rispinge si svita fa saltare il difensore ci sarebbe me fiondu trovato c'è un fallo non ce lo fischiano occhio 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 è perso in difesa ma no ma ti rendi conto questo secondo me è auto canestro oh si è alzato giavalone ragazzi si è alzato giavalone willy contro jamoran il futuro della lega ha trovato victor oladipo va via me fiondu arriva bicchierone a portare il blocco ancora oladipo contro tutta la difesa si butta dentro regge che giocatore che giocatore victor oladipo bicchierone ragazzi sta pigliando tutti eh abbiamo un mismatch non fare novitski non fare novitski comunque fa canestro occhio 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 e melo e sei quasi feggio di buche no via non esageriamo feggio di buche c'è c'è la morte ha chiamato time out così ah ma ora ho capito perché ha chiamato time out perché voleva fa entrare buer e sennò gli scorreva troppo il tempo e ha dovuto fermare il gioco per mettere il suo pupillo eccolo qua subito a chi ha fatto una ringollata vedi 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 però come punisce è buer è l'ultima volta che ti vedo forza buer meffiondu come difende in aiuto contro erizo basso è arrivato anche giavalone c'è mancato niente dagliela 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 willy ancora willy oltretutto la difesa di sinistro la scucchiaiata per il più sette l'aiuto di meffiondu contro richi rubio e si butta dentro trovato ancora è arrivato meffiondu si butta dentro trovato ancora è arrivato meffiondu in aiuto dal nulla va bene non importa ci ha regalato la stoppata nell'ultima partita va bene così forza giavalone però il primo possesso ti sei falleggiato sui piedi io capisco ma come si fa guarda guarda i guadala l'ha costretto all'infrazione di passi ragazzi ti s'attacca addosso come le pulci mancano 5 secondi c'è devin buker che proverà il miracolo contro tutta la difesa il resto è tiro dal centro dell'area mai una soddisfazione ragazzi si sta giocando con le twin tower il doppio lungo giavalone meghie e il bicchierone insieme in campo contemporaneamente loro proprio non riescano manco a vedere dove stai canestro appunto piccherò tra oladipo e giavalone si butta dentro ancora victor oladipo c'era un fallo grosso come una casa non va meghie riesce a auto stopparsi in attacco poi recupera il possesso e ne mette due vai giavalone vai reggi melo reggi l'ha portato sull'aiuto di giavalone che l'ha cancellato li costringiamo ai 24 secondi non ci potete andati da dentro l'area perché è un massacro vai così adesso se lo mangi vivo a colazione non te ne rendi neanche conto forza carmelo fino in fondo però carmelo mac ma ti pare che ti fai marcare da tre i tro i brown junior lì come si chiama ecco si guadagna la posizione ancora oladipo stavolta la prende però arriva meghie che deve tirare te ne devi accorgere prima giavalone va bene comunque va bene è un po diverso edge riu holiday quando ti marca oladipo rispetto a quando si marca buke che dici trovato willy arresto e tiro si gira verso il pubblico come gilbert arinas la gente zero il principe di bel air più 4 ah vai melo a prenderti la sua rivincita contro troi tre i altri due carmelo anthony ragazzi si è difeso forte per tutta l'azione stagli lì stagli lì willy stagli allora però l'annunciatore trovato victor in uscita dai blocchi non va ma c'è già valone coltapid volante per il più tre e draymond green ha postato lì dietro l'arco ci sta dando parecchia noia però ragazzi che partita 22 pari e vedi si fa ha subito indicato in guadala hai detto coso pigliamelo te il mio perché io proprio guarda è l'ultima mi togli capo non ne parliamo neanche ma da me fiondo in versione polpo pol e tira e codesto tira io non ve lo ve lo dì e poi non si fa tagliare no 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 ma come si fa concede codesto la dipo ormai ti ha preso il ribalzo i lunghi sono fuori dall'area e lascialo fa che che forza c'è un mismatch c'è un mismatch c'è me fiondo marcato dal lamb trovato la dipo fuori per buker arriva il pick and roll il blocco di giavalone mancano quattro secondi buker giustamente la dam e ghi per tirare quasi da tre e l'intelligenza scestistica di un bradipo arrosto e trovi guai trovi guai io se lo dicevo niente ci hanno fischiato la dipo e lo so è tutto un fallo che ti devo di ma tanto se quando c'hai qualcuno che t'attacca te lascialo passare fai come buche tanto sotto canestro sa una roba che che portami via proprio ha messo anche zion però 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 zion e sei appena entrato te la sei belle picchiata su un piede cioè io boh veramente vadalo è un respiro e tre falli ora sto curioso di vedere cosa combinerà questo maccano otto secondi alla fine del primo tempo siamo scivolati sotto di sei buker non te la passa mai nella vita si chiude nell'angolo si gira in palleggio tira e chiappa il secondo ferro eh guarda giavalone in uscita dalla panchina quattro punti e cinque ribalzi che giocatore questo se arrivava prima ci dava delle gioie occhio 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 bravo zion bravo attrattore e in un altro fallo ma non è possibile cioè non lui non si può veramente muovere l'hanno dato a carmelo è uguale e sei grosso non è possibile non è possibile l'hanno fatto briaco l'hanno fatto briaco io io ma bravo bicchierone dal palleggio io veramente ma chi ti avrà insegnato già a pallacanestro non lo so sei più alto di tutti quell'altri messi insieme uno sopra quell'altro e te vai di fade away alla novitski e dal palleggio come nesce e nessuno che rietra e difesa l'ha rintronato dagliela lunga per willy il principe di bel air siamo vivi e a meno sei se boyle rimettesse oh no chi è giavalone e mefiondu bene bravo boyle per l'ultima partita forse forse ti sei svegliato anche non è vero mai ancora victor o la dipo c'è un altro mismatch bicchierone stavolta mi sa che tocca la novitski no invece scarica per willy principe di bel air mancano quattro secondi trovato la dipo il resto è tiro da tre putti non va c'è il rimbalzo però ancora del bicchierone che sbaglia l'appoggio gliela picchia sulla schiena la recupera zion almeno questa piegalo con questo ferraccio forza meno quattro vada come svetta ora willy al centro dell'area il resto è tiro non c'è neanche bisogno del rimbalzo che giocatore willy il principe di bel air meno due porta verso l'aiuto di giavalone gli si oscura la vallata ci prova errell ma viene cancellato la recupera meffiondu vai victor vai sbucagli da dietro victor ho la dipo appoggiato al tabellone abbiamo una partita o comunque come non è uscito bu e siamo ritornati a pari eh io così giusto per il dovere di cronaca guarda willy è tremendo meffiondu a giocare da point forward si lavora per l'uscita dai blocchi di willy arriva jamoran che recupera in difesa ancora willy col crossover si butta dentro stoppato da dremon green che è successo in frazione di 24 secondi bah questo vorrebbe attaccare contro meffiondu mi sa che non ha capito che aria tira si butta dentro meffiondu gli da noia recupera il possesso e siete vi state dando noia a vicenda sbaglia ma arriva meffiondu che pulisce tutto al rimbalzo 11 a 0 di parziale da quando è uscito buher e passiamo in vantaggio zion io fossi intimiderei culturismo dagliela è più alto e più grosso forza willy contro rubio spalla canestro si butta indietro tira ma che giocatore è oh la bella lavanderina è tornata eh eh come la vedo male questo possesso però c'è ancora giavalone che gli fa pentire di essere nato proprio finisce il terzo quarto ragazzi c'è c'è boh va bene vabbè guarda va bene vabbè io mi accontenterei boi lenz sale va tanto canestro l'ha fatto no butta dentro ancora rubio non lo sa che ci sono le twin tower e le mani veloci di victor o la dipola pantera nera ancora buher che è in contropiede ma lui fa step back occhio occhio perché questi sono sempre vivi meno tre no non gliela dare non gliela dare a bicchierone va bene perché quello facevano vischi io l'avevo già visto ma esce dai blocchi victor o la dipo solo verde per il più sei ma come ti sei vestito ho una fovaglia boyle contro giavalone se non ce la puoi fare mai cioè vince sempre lui a prescindere dagliela lunga dagliela così va bene va bene va bene io non lo leverei mai cioè fosse per me lui gioca 48 minuti mi verde anche a tiri liberi che giocatore dominante guarda a tre secondi dalla fine dell'azione si sono costretti a un tiro da 15 metri sa una difesa che è una roba la parola d'ordine da qui alla fine deve essere non rimettere più buher cioè piuttosto butti dentro il massaggiatore ma buher mai ancora willy con eleganza con maestria occhio 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 perché la iapa è tornato me fiondu occhio 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 perché la iapa è tornato me fiondu ce ne ha tirate due occhio perché occhio perché l'ha preso bene è un block party di me fiondu ce ne ha tirate due occhio perché occhio perché l'ha preso bene è un block party di me fiondu nell'ultima partita della stagione non poteva essere altrimenti che giocatore che giocatore ragazzi bisogna cercare di reggere botta in qualche modo perché manca un minuto e cinquantotto eh ce la possano ancora fare siamo a più otto giochiamo con calma sui ventiquattro secondi tanto il punteggio il cronometro ora è dalla no e però non bisogna palleggiarsi sui ginocchi perché sennò il cronometro ci se ne fa di poco ragazzi uno dei possessi più importanti della partita si va da carmelo anthony nell'angolo arriva il bicchierone a portare il blocco ancora meno arresto e tiro dalla media il rilascio di carmelo anthony per il più sette a un minuto dalla fine guarda willy e legge la linea di passaggio recupera ancora il possesso io non me la vorrei gufare ma ci sa un piede e mezzo verso la vittoria ragazzi è possibile che loro vadano al fallo sistematico quindi si esatto la darei a Oladipo anche se c'ha un discreto Gatorade Oladipo eh quindi boh vabbè noi si continua a dare Oladipo nooo ragazzi non si può perdere questa partita non si può perdere mai nella vita no non ci voglio credere 0 su 2 macchano 25 secondi loro barrando hanno buttato dentro anche blake griffin per cercare di 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 portarla a casa in qualche modo 17 secondi si butta dentro giù oliday scarica proprio per griffin da 3 la mette la mette blake griffin sono a meno 2 ci abbiamo l'ultimo possesso willy anche lui è assetato in una maniera devastante io con 2 willy si sarebbe più tranquilli per l'appunto ma anche uno andrebbe bene quantomeno ci abbiamo un possesso pieno 51 a 48 mancano 12 secondi sbaglia il secondo willy ci hanno la possibilità di andare all'overtime 8 secondi giù oliday moran per green c'ha i piedi sulla linea l'hanno visto tutti non va il rimbalzo di willy il rimbalzo di willy che è nettamente l'uomo partita ragazzi ne basta uno willy ne basta uno forza così willy il principe di bel air 52 a 48 diventano 53 e allora ragazzi a 2,8 secondi dalla fine praticamente è fatta la mette Harrison Bars loro proprio non ci stanno per niente però c'è 8 decimi io che vi devo dire basta ricevere ragazzi basta ricevere forza forza è finita la portiamo a casa l'ultima vittoria dell'anno panchina contro panchina impaxisce il bicchierone abbiamo vinto 53 a 50 si è tirato malissimo i tiri liberi ci potevano costare molto cari però abbiamo meritato più rimbalzi più assist più punti della panchina una vittoria di cuore di quelle vecchio stampo come una volta all'inizio dell'anno dodici di Harrison Bars otto rimbalzi di Damon Green 7 e 4 di Montrezl Harrell però ce ne sono 16 con 2 rimbalzi 4 assist e 3 recuperi di Will il principe di Belair 11 2 e 3 di Oladipo e 6 di Devin Booker nonostante tutto 7 rimbalzi e 3 stoppate di Giavalone in uscita dalla panchina e allora al di là di tutto è stata una vittoria emozionante perché nell'ultima partita dell'anno e con tutte le panchine ci siamo davvero tolti una soddisfazione 53 a 50 altri 40 quindi la classifica finale definitiva del quasi gaming dice Chicago Bulls vincenti con 662 punti Utah Jazz 471 per quel che riguarda questa partita miglior realizzatore Will il principe di Belair nei rimbalzi Draymond Green negli assist ancora Will e Iguodala nei recuperi Draymond Green e Will e nelle stoppate Giavalone e Mefiondu che purtroppo si ferma soltanto un riconoscimento di distanza dalla vetta della classifica delle stoppate detto questo che vi devo dire non ci serve a nulla ma così per divertimento ce la facciamo mancare un'ultima sessione di estrazioni io direi proprio di no 5 per noi 10 per loro ecco ecco così giusto per gradire peccato peccato aiuto a Jazz era buono davvero eh ragazzi vi giuro che non è fatto apposta fortunatamente è doppione eh che però volevo dire ovviamente perché lui esce sempre non è cambiato un granché in realtà perché si è vero loro pescano Luca Doncice ma nel ruolo di ala piccola già hanno Kevin Durant che è un gold quindi non si possono ottenere il silver per cui Doncice non rimane in squadra noi non ci cambia niente l'unica cosa che loro cambiano per chiudere così il roster definitivo della stagione riguarda di Andre Hunter che entra in squadra finalmente trova una collocazione al posto di Troy Brown queste sono le due squadre che terminano la stagione ma prima di lasciarci passiamo alle premiazioni Hall of Fame quasi gaming prima stagione iniziamo dal miglior quintetto ruolo per ruolo i giocatori con i maggiori riconoscimenti individuali a formare la miglior squadra dell'anno Russell Westbrook Andre Roberson il Saracinesca Kawhi Leonard Mefiondu Cabengele e Anthony Davis il miglior stoppatore del campionato primo nella classifica delle stoppate Carl Anthony Towns miglior ladro di palloni primo nella classifica dei recuperi Carl Anthony Towns miglior assistman della stagione primo nella classifica degli assist Damian Lillard miglior rimbalzista della stagione primo nella classifica dei rimbalzi Carl Anthony Towns miglior realizzatore del campionato primo nella classifica dei punti Kawhi Leonard MVP del quasi all star game di metà stagione Mr. A più JJ Reddick MVP miglior giocatore dell'anno l'uomo copertina Anthony Davis quasi MVP giocatore più acclamato dal pubblico nonché primo nella classifica dei riconoscimenti personali pur facendo parte dell'ultima categoria presa in considerazione in tutto l'anno quella dei bronze Mefiondu Cabengele sì, ho inventato un premio solo per lui è il miglior giocatore dei bronze che so la categoria dei più scarzi miglior giocatore dei bronze alla fine dell'anno da ora in poi sarà il quasi MVP premio alla carriera di Mefiondu Cabengele vincono il primo quasi gaming i Chicago Bulls e per quest'anno salutandovi e ringraziandovi per tutto l'affetto e la passione che ci avete messo dalla prima puntata fino all'ultima del quasi gaming è tutto o forse no me l'avete chiesto in tanti 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 talmente tanti che alla fine ho deciso di provarci mi riguarderò tutte le partite selezionerò tutti i momenti migliori dell'anno e non sarò da solo a farlo e non ci saranno soltanto gli highlights ma anche tanti contenuti inediti extra, backstage, contributi esterni un'opera colossale ore e ore di lavoro una produzione enorme ma se anche voi farete la vostra parte spargendo la voce col passaparola e se quindi il canale dovesse un giorno per mantenere le buone abitudini arrivare a quota 30.000 iscritti verrà alla luce la madre di tutte le tamarrerie quasi gaming il film il film il film il film il film il film